L'ambiente contiene un letto, ma anche attrezzi di lavoro e quello che sembra un telaio, forse di un altro letto, smontato, si riconoscono, inoltre, ceste, una lunga corda, pezzi di legno e una sega con lama, che sembra non tanto diversa dalle seghe tradizionali usate fino a poco tempo fa. È l'ultima scoperta emersa nel quartiere servile della villa di Civita Giuliana, indagata scientificamente sin dal 2017 e quando fu strappata agli scavatori clandestini grazie a un accordo tra il Parco archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L'ambiente è conservato in maniera eccezionale come gli altri due scoperti nello stesso settore con i letti degli schiavi, dove è stato possibile realizzare i calchi di mobili e altri oggetti di materiali deperibili come legno, tessuti, corde. La tecnica dei calchi, sperimentata dal 1863 con la realizzazione dei primi calchi delle vittime dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., è unica al mondo. Persone o oggetti travolti e coperti dalla corrente piroclastica, una nube ardente di cenere e gas tossici, sono rimasti lì per secoli. Ma mentre la cenere si è solidificata, formando uno strato molto solido noto come incinerite, il materiale organico quali corpi umani, animali o oggetti linnei, si sono decomposti, lasciando un vuoto nel terreno. Questi vuoti possono essere riempiti di gesso durante lo scavo, per riottenere, dall'impronta in negativo, la forma originale. Una tecnica che ha portato a risultati straordinari nella villa di Civita Giuliana, dai calchi di due vittime e di un cavallo a quelli dei letti modesti del quartiere servile. Nell'ambiente servile tra gli attrezzi c'era anche un pezzo della corda, individuato sempre come impronta nel sottosuolo, che teneva la sega sotto tensione.